Salmo 34 di Davide Quando si finse insensato davanti ad Abimelech e cacciato da lui, se ne andò. Io benedirò l'Eterno, in ogni tempo la sua lode sarà del continuo nella mia bocca. L'anima mia si glorierà nell'Eterno, gli umili ludranno e si rallegheranno. Magnificatemeco l'Eterno, ed esaltiamo il suo nome tutti insieme. Io ho cercato l'Eterno, ed Egli mi ha risposto, e mi ha liberato da tutti i miei spaventi. Quelli che riguardano a Lui sono illuminati, e le loro facce non sono svergognate. Quest'afflitto ha gridato, e l'Eterno l'ha esaudito, e l'ha salvato da tutte le sue distrette. L'angelo dell'Eterno s'accampa intorno a quelli che lo temono, e li libera. Gustate, e vedete quanto l'Eterno è buono! Beato l'uomo che confida in Lui! Temete l'Eterno voi, Suoi Santi, poiché nulla manca a quelli che lo temono. I leoncelli soffron penuria e fame, ma quelli che cercano l'Eterno non mancano d'alcun bene. Venite, figliuoli, ascoltatemi, io vi insegnerò il timor dell'Eterno. Qual è l'uomo che prenda piacere nella vita, ed ami lunghezza di giorni per goder del bene? Guarda la tua lingua dal male, e le tue labbra dal parlar con frode. Dipartiti dal male, e fai il bene. Cerca la pace, e procacciala. Gli occhi dell'Eterno sono sui giusti, e le sue orecchie sono attente al loro grido. La faccia dell'Eterno è contro quelli che fanno il male per sterminare di sulla terra la loro memoria. I giusti gridano, e l'Eterno li esaudisce, e li libera da tutte le loro distrette. L'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuor rotto, e salva quelli che hanno lo spirito contrito. Molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte. Egli preserva tutte le ossa di Lui, non uno ne è rotto. La malvagità farà perire il malvagio, e quelli che odiano il giusto saranno condannati. L'Eterno riscatta l'anima dei Suoi servitori, e nessun di quelli che confidano in Lui sarà condannato.